Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Finalmente, dopo aver sbloccato e completato il World 3, possiamo andare verso il World 4. World 4 che ho completato da relativamente poco tempo, l'ho fatto in live su Twitch la scorsa volta. Abbiamo sbloccato il mondo 5 che ancora devo effettivamente studiare e mettere in ottica strategica, perché ci sono diverse soluzioni che si possono utilizzare, ma una è quella probabilmente più efficace e che tutti quanti avranno utilizzato e vedremo se la utilizzeremo anche noi, anche se in realtà vorrei fare delle strategie alternative. Detto ciò, mondo 4. Mondo 4 che inizia a rendere le cose ancora più complesse, dato che per l'appunto la raccomandazione del team sale a 50, quindi abbiamo praticamente una sorta di soft cap per quanto riguarda l'equilibrium, perché il prossimo equilibrium poi si sbloccherebbe al livello rank 40, quindi al livello 40 per avere il terzo equilibrium, quindi fino a quel livello, diciamo che il mondo 4 in teoria rappresenterebbe il soft cap, senza utilizzare strategie particolari. Ecco, facciamo wink wink con l'occhio e ci siamo capiti, quindi strategie game breaking che sfruttano meccaniche dei personaggi. Detto ciò, il nostro boss è niente poco di meno che Svarog questa volta, boss estremamente duro nella fase finale, non tanto nelle prime fasi perché le prime fasi sono abbastanza gestibili da un certo punto di vista, ma le fasi finali qui sono estremamente noiose, sono estremamente noiose, ma quella finale è un qualcosa di incredibile ed ho paura a riaffrontarlo sinceramente, spero di farcela ma ho seriamente paura di poter anche fallire, perché ho seriamente paura anche di poter fallire, non è detto. Io tenterò di utilizzare la stessa strategia che ho utilizzato in live, che comunque ha funzionato discretamente bene, però possiamo anche, possiamo probabilmente gestirla anche in maniera diversa. Che abbiamo utilizzato in questo caso del team? Ovviamente io ho utilizzato Jepard come tank perché ormai praticamente è una sorta di risorsa fissa, lo utilizzo praticamente sempre, poi come fuoco ho utilizzato Himeko, anche se molti mi hanno suggerito Asta e Asta effettivamente parlando come breaker per quanto riguarda appunto gli scudi è anche molto più efficace rispetto a Himeko, quindi Asta portata su e con un set di break efficiency potrebbe effettivamente darvi tante soddisfazioni. Poi successivamente mi sono portato dietro Dunhang come DPS perché appunto mi serviva quel DPS fisico che potesse effettivamente farmi danni, anche se in questo caso avendo la possibilità di incontrare il Grizzly che sapete benissimo essere un avversario molto infame dato che evoca le bombe, mi sono portato niente poco di meno che Serval e poi ovviamente abbiamo chiuso il tutto con la nostra Natascha che è praticamente una sorta di sicurezza al 100%. Let's go, andiamo avanti. In questo caso ho utilizzato il patto Destruction e avremo anche una modifica per quello che sarà poi il party finale e vedremo anche perché. Quindi patto Destruction, confermiamo in questo caso. Anche in questo caso adesso avendo sbloccato il Curio, io comincio con il Curio. Questa potrebbe essere interessante, anche se la moneta mi mancava quindi avrei potuto prendere quella in realtà, però va bene. Ok, cominciamo Destruction. Iniziamo a buildare. Oddio, io non mi ricordo neanche se Serval... Sì, Serval era buildata... Sì, tutti quanti sono... Ok. No, perché a volte scambio i set dei vari personaggi, quindi capita che... Capita che possa effettivamente perdere pezzi. Ok, qui iniziamo ad utilizzare i reset, che finalmente li possiamo usare. Qua ci portiamo questo. Abundance qua non lo possiamo ancora utilizzare perché non l'abbiamo sbloccato, quindi... Non lo scelgo solo ed esclusivamente per quello. Sarebbe... Sarebbe troppo... Avvantaggiante. Sarebbe troppo avvantaggiante in quel caso, quindi non lo faccio. Ok. Ancora Destruction. Qui dobbiamo potenziarci il più possibile e il più in fretta possibile, perché Swarog, soprattutto nell'ultima fase, è veramente una rottura. Ok, you gain nothing. Ottimo. Magnaia. Questo non è male, perché guadagniamo scudo col break, quindi diciamo che da un lato ci aiuta. Ecco qua. Qui iniziamo... Iniziamo con un bel nemico, bello tosto. Allora, aumentiamo le nostre difese. Qui è importante riuscire ad eliminare in fretta i minion. Perchè altrimenti lui le assorbe per potenziarsi. E potrebbe essere fastidioso. Ok, vedete come danni ne fa meno, perché giustamente non ha potuto potenziarsi. Ecco qua. Si è buffato, perché mi ha assorbito la sua summon, cioè il suo minion. Quindi un troppo si è buffato un po. Qui giocare con i break di Himeko... E' assolutamente utilissimo. Ok. Così non si può potenziare. Ecco qua. Vedete, difesa è ridotta, perché quando non può assorbire nulla, tra l'altro si indebolisce. Qui anche con Asta ovviamente breakare è utilissimo, perché appena breccate Asta ovviamente aumentate la speed, breccate, potete fare praticamente tutto quello che vi pare e piace. Questo è meglio. Tu hai la mia gratitudine. Ok. Questo nemico se non riesce ad assorbire i minion è abbastanza semplice da gestire. Ecco qua. Prendiamoci questo. E finalmente abbiamo l'attacco Destruction. Questo cos'è? Preservation... Questo è ottimo. Qui possiamo prendere effettivamente le ricompense perché abbiamo i tokens. Quindi io quasi quasi inizio a prenderli perché comunque mi interessano piano piano prendere anche questi oggetti. Sono molto comodi. Qui ci portiamo Bronia, che sarà una delle nostre chiavi di vittoria nella fase finale, ma ovviamente è la mia strategia questa, giusto per... Senza, diciamo... Diciamo, è una sorta di strategia che faccio vedere per chi può effettivamente emularla. Quando choosing a blessing, level up all one star blessings that appear. Questo sinceramente Cosmic Fragment non mi interessa, preferisco questo. E' vero che molti dovrei prenderli per sbloccarli nell'enciclopedia, ma finché non è veramente tipo un farming di routine che magari mi permetta di fare il tutto facilmente, preferisco di no. Ok, qua utilizziamo Serval per fare danni iniziali. Qui possiamo utilizzare subito il patto, che fa un po' meno danni per il momento, ma se riusciamo a potenziarlo e riusciamo ad ottenere l'altra passiva che è molto, molto, molto comoda, possiamo praticamente creare una combo molto interessante. Possiamo creare veramente una combo molto interessante. Diciamo che qui la cosa di distribuire danni a tutti è buona, perché entra in combo con il meccanismo del mio attacco del patto. Perché il mio attacco del patto fa tanti danni fuoco, tra l'altro, quindi è una cosa comoda anche per Svarog, che è debole a fuoco. Quindi fa tanti danni distribuiti a tutti per, appunto, facilitare poi l'accumulo che possiamo ottenere quando sfruttiamo l'attacco finale. Che è molto, 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 molto comodo in questo caso. Oh, eccoci qua. Perfetto. Quindi anche quando abbiamo HP abbassate adesso siamo ancora più forti. Diciamo che questo è appunto un setup che premia gli HP bassi, ma al tempo stesso non bisogna esagerare perché, appunto, si rischia di farsi del male. Ecco, mettiamola così, quindi si deve effettivamente giocare al meglio delle proprie possibilità. Noi abbiamo ovviamente il Bless, che ci ricarica automaticamente, cioè abbiamo il Curio, che ci ricarica automaticamente l'attacco speciale. Quindi lo possiamo adesso spammare praticamente sempre all'inizio. Questo non è male. Intanto mi manca pure, quindi... Quindi ben venga. Vedete? Abbiamo praticamente già subito l'attacco pronto e noi lo possiamo fare per avvantaggiarci un pochettino. Per Fieto. Niente, Destruction non ce li abbiamo. Ecco qua. Ancora non siamo... Diciamo al livello giusto perché mi manca appunto... Forse l'ultimo per prendere la seconda passiva, quindi speriamo di... Speriamo di poterla prendere adesso perché... Mi serve assolutamente il secondo attacco, cioè la seconda passiva più che altro, il secondo Blessing dell'attacco speciale, che è molto molto comodo per la strategia. E ma questo però già è already enhanced. Ok, va bene. Eccoci qua. Questo, ragazzi, è la combo insieme al vostro attacco che è veramente un qualcosa di incredibile perché dopo aver utilizzato il patto consumiamo i nostri HP fino al 40% dei nostri HP massimi. Però, diciamo, gli HP che perdiamo li recuperiamo come scudo e facciamo ovviamente danno. E facciamo ovviamente molto più danno. Quindi questa è praticamente la combo definitiva quasi, oserei dire. E questo ovviamente va utilizzato intelligentemente perché si fa la combo, cioè nel senso si fa l'attacco, vedete? Che perdiamo gli HP, facciamo tanti danni, però poi dobbiamo curare subito con Natasha. Dobbiamo recuperare per, diciamo, per la prossima ondata. Abbiamo eliminato subito i minion, abbiamo fatto 14.000 danni, praticamente, con un colpo solo. Quindi veramente, veramente ottimo. Qui stiamo togliendo gli stack, che è la cosa più importante. Perché questi attacchi possono essere fastidiosi. Soprattutto per Serval, che qui è veramente una piuma. È letteralmente una piuma Serval. Rischia di crepare in maniera pazzesca. Quindi, ovviamente, se si ha la possibilità sicura. Noi nel frattempo utilizziamo anche le cure di Natasha per ricaricare più velocemente la sua ulti. Perché ci servirà appunto quando, esatto, avremo la possibilità di sfruttare... Allora, fai così. Noi ora qua facciamo così, è così. Quindi, altri danni, ci curiamo con Natasha. Vedete? Così praticamente noi facciamo danno, perché perdiamo gli HP, ma al tempo stesso... Recuperiamo. Noi qua tentiamo di curare e caricare subito. E mi ha stunnato praticamente tutti. Ma il Naya... Questo boss è un po' infamuccio proprio per questo motivo. Perché ha questa meccanica di stun... Che... Che è fastidiosa. È molto fastidiosa. Ma dovrei curare Kimeko, in realtà. E noi la curiamo, perché non voglio rischiare che possa effettivamente farsi del male. Qui mettiamo assolutamente gli scudi, perché lei sta caricando l'attacco. Quindi riuscire a breccarla, vedete, come in questo caso, sarebbe perfetto. Sarebbe letteralmente perfetto, perché le impediamo praticamente di attaccare. Io qua faccio assolutamente l'attacco, perché ci sta. Esatto, così recupero e curo tutti. Ecco, e praticamente voi potete andare avanti con questa strategia. Cioè, tentare comunque di curare, accumulare il tutto. Proteggervi nel migliore dei vostri modi possibile. Purtroppo delle volte si subiranno dei danni che... Bisogna purtroppo tancarsi. Però, fortunatamente, anzi, con la scusa che distribuiamo i danni a tutti, un pochettino... Ci sta aiutando, perché avere comunque la distribuzione dei danni non fissi su di noi... Distribuisce equamente i danni e comunque avendo tanti HP o comunque una buona parte di HP... Ci aiuta, ci aiuta parecchio questa cosa. Soprattutto Serval. Serval è veramente un grissino, praticamente. Ok, utilizziamo questo attacco e dovremmo aver vinto. Yes. Oh, perfetto. Fortune Blue. Mamma mia. È che non so se forse riusciremo a sfruttarla. Allora, qui io utilizzo un altro... Lo utilizzo un altro token, in realtà. Perché se forse era meglio utilizzarli nel World 5, che possono spuntare anche quelli 5 stelle. Però non con questo kit, quindi... Allora, qui la situa potrebbe essere interessante. Potrebbe essere interessante perché qui a me conviene portare Danheng comunque. Quindi portiamoci il nostro Danheng, anche se non lo utilizzerò. Preferisco utilizzare Bronia. E dopo ovviamente vedrete anche il perché. Ma Danheng è la soluzione praticamente free to play migliore che comunque possiate avere al momento. Niente, qui non possiamo fare nulla. Oh, vediamo se qua mi fa scartare qualcosina. Questo potrebbe essere utile scartare... Perdere... Perdere... Sì. Ok. Questo ne vale assolutamente la pena. Qui recuperiamo parte dei nostri HP. Qui abbiamo l'ultimo Downloader. Che qui in realtà ormai sinceramente possiamo portare chiunque. Tanto non cambia. Io il team... Il team qui lo cambierò. Lo cambierò perché leverò Himeko. E metterò Bronia. Qua Serval mi aiuta tanto per breccare soprattutto la fase finale. Per contrastare la fase finale. Qui però la strategia funziona nel fare danni con il nostro attacco speciale. Quindi in realtà la situazione è questa. Faremo danni esclusivamente con il nostro attacco speciale. Vabbè, qui non posso potenziare praticamente nulla. Quindi andiamo dal boss. Allora, qui difesa assolutamente. Bustiamo anche la nostra potenza. E poi da Barog tentiamo di rifare la strategia vincente che abbiamo fatto praticamente ieri. Ecco qua. Quindi evoca subito il minion. E noi li eliminiamo così. Esatto. Tra l'altro vedete quanti danni riusciamo a produrre. Curiamo con Natasha. E adesso qui continuiamo... Continuiamo a giocare. Come? Praticamente con Bronia portiamo avanti Natasha. Con Natasha curiamo chiunque per ricaricare la ulti. Con Serval attacchiamo e critchiamo cercando appunto di... Di breccare il più possibile. Cerchiamo di potenziarci il più possibile. Anche perché dobbiamo fare attenzione a non far caricare gli stack a... A Swarog. Lui carica gli stack di danno in più e non ce lo possiamo permettere. Allora, qui dobbiamo togliere le armature. Ci serve anche per questo... Ecco qua, abbiamo praticamente fatto questo. Quindi qui chiamiamo... Chiamiamo lei. Qui facciamo così. Ok. Vedete, lui nel frattempo carica gli stack. Quindi noi dobbiamo essere anche veloci nel fare danno. Dobbiamo assolutamente... Ok, qua ci curiamo. Lui richiama ovviamente i minion. Perché è un infame senza gloria proprio. Sì, andiamo avanti così. Ok. Niente, oggi... Oggi non mi lasciano in paio. Oggi non mi lasciano in paio. Ok. E siamo praticamente alla fine, ragazzi. Un per cento. Fine. Vedete, si può tranquillamente giocare in questo modo. Gestendo ovviamente le cure di Natasha, che qui gioca un ruolo fondamentale. Se avete addirittura Bailu, secondo me potreste anche giocarvela in maniera un po' più aggressiva, forse. Magari levando Bronia e mettendo un Dan Hang per fare ancora più danni. Io qua ho preferito Bronia per la manipolazione dei turni, che mi conveniva di più. Però, per chi non ha questa possibilità, può utilizzare Dan Hang per fare i danni e battere praticamente tutti subito. Serval qui gioca un ruolo incredibile. La dovete assolutamente utilizzare più che altro per i break. I break che infliggete alle mani sono utilissimi. Veramente utilissimi. E niente. Per il resto non c'è altro da dire. Questi sono soltanto i miei consigli. E la mia strategia, in questo caso, no? Per farvi vedere appunto come poter sviluppare le varie fasi. Ma soprattutto il Path Destruction qui vi aiuta veramente, veramente tanto. Quindi anche il mondo 4 è stato completato con successo. E noi ci vedremo poi appena avrò modo di poter studiare meglio anche il mondo 5. E poterlo appunto completare nel miglior modo possibile. Detto ciò, non c'è altro da aggiungere. Io vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo alla prossima. Bye bye!